Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Eccoci giunti ad un evento che fino a poco più di un mese fa non era programmato, era anzi inaspettato. Ci stringiamo a te, riconoscenti e gioiosi, noi frati della custodia del Sacro Convento, fraternità che hai amato e per quasi otto anni come custode hai servito con affetto, lungimiranza, passione e con lavoro istancabile. Da qui discende il servizio del Vescovo, vale a dire percepirsi e vivere concretamente come persona dedicata al bene di tutti. Il Patto, direi meglio il giuramento che questa sera fai con Cristo, carissimo Padre Mauro, è che da oggi tu possa guardare ogni persona con occhi di Padre. Sotto gli occhi dei miei nemici, unge di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sotto gli occhi dei miei nemici, unge di olio il mio capo, il mio capo, il mio capo, il mio capo. Tutti i giorni della mia vita abiterò ancora nella casa del Signore. Ti benediciamo al modo minore e rustico dei frati di Francesco. Ti benediciamo con il silenzio fecondo di chi lascia partire per amore. Faccio mio e il mio omaggio a San Francesco e alla sua fraternità. E mi tuffo. Grazie, fratelli tutti. Grazie. 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 Grazie.